Gentile cliente, benvenuto in Messe Frankfurt Italia! Con questo breve tutorial vogliamo rendere più agevole possibile l'utilizzo del nostro sito per l'ordine dei servizi. Per prima cosa, apra la mail che ha ricevuto dopo essersi iscritto alla fiera. Nella mail troverà il link per accedere al sito per l'ordine dei servizi, oltre che il codice del suo stand. Clicchi sul link al sito. In questa pagina, selezioni il bottone Login. Qui inserisca la mail del contact person indicato in fase di registrazione nella prima riga e la password nella seconda, e poi clicchi Login. In caso avesse dimenticato la mail utilizzata per la registrazione, può inserire il codice cliente che trova nell'offerta di stand inviatole in fase di iscrizione alla fiera. Una volta effettuato il login, vedrà la schermata con il nome dell'evento, la venue, l'organizzatore e il numero dello stand. Clicchi su Product Selection per accedere alla parte dedicata all'ordine dei servizi. Qui avrà la possibilità di ordinare vari servizi per il suo stand, selezionandoli con i corrispondenti. Per qualsiasi problema legato al suo account, per esempio se non dovesse riuscire ad effettuare il login, può contattare direttamente il servizio Easy Order tramite email a myaccount-messe-frankford.com. Per qualsiasi altra richiesta sul servizio di ordine online, può contattare il 49 69 75 75 29 99 o inviare una mail a service shop chiocciolamesse-frankford.com. Vi ricordiamo che l'assistenza è fornita in lingua inglese. Messe Frankfurt la ringrazia per l'interesse manifestato e si augura di vederla presto in fiera. Grazie e arrivederci!